L'idea di produrre questo spettacolo, Il Monsone, è venuta perché io avevo già conosciuto Marco Mizzolo, era appena uscito il libro Sotto Padrone, io l'ho comprato, l'ho letto e ho proprio deciso che le storie che stavano su quel libro andavano raccontate attraverso il mio linguaggio che è quello del teatro, ho pensato di ritornare su delle cose che già avevo fatto, quindi proiezioni video e musica per cercare di essere il più coinvolgenti possibile e far passare un legame, una connessione emotiva con il pubblico e questa è stata la genesi dello spettacolo. Ciao 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 Ciao